Serafino Berlingeri, soldato del reggio esercito, morì servendo la patria con onore durante la campagna di Albania il 2 maggio del 1941. Prima sepolta a Cortiza sul fronte albanese, poi nel corso del tempo trasferito nel sacrario militare dei caduti d'oltremare a Bari. Adesso, dopo 77 anni, Serafino Berlingeri è tornato nella sua amata città nova, dove sarà sepolto accanto a sua moglie, Rachele. Le spoglie del soldato sono state condotte nella sua città d'origine grazie all'interessamento del comando militare esercito Calabria e accompagnate da due sottoufficià, i caporal maggiori scelti Antonio Raffaele e Gaetano Cotrunei. I resti del militare sono state omaggiate con una messa in suo suffraggio svoltasi nella monumentale chiesa di San Rocco. Presenti alla cerimonia, la figlia del militare caduto in Albania, Serafina, i nipoti e tanti parenti del soldato. Alle eseque anche le autorità militari e civili e tante associazioni del territorio che hanno ricordato il sacrificio estremo di un soldato che, chiamato alle armi dal suo paese, seppe rispondere con coraggio e donare la sua vita per la patria. Dopo la messa e prima del passaggio al cimitero, un breve corteo ha accompagnato le spoglie raccolte in un'urna avvolte dal tricolore portate davanti al monumento del milite ignoto della sua città. Il silenzio e una corona di fiori hanno ricordato il suo sacrificio e quelli di tanti militari caduti per l'Italia. Portare un parente a casa dopo tanti anni, soprattutto chi ha speso la vita morrendo in guerra, è un evento speciale, di un'emozione forte perché lo aspettavamo da tanti anni. Io sono la nipote, una dei quattro figli dell'unica figlia sua che, come è venuto fuori durante la cerimonia, è l'unica figlia che lui non ha neanche potuto conoscere. In realtà le spoglie di mio nonno erano già state deposte nel sacrario militare dei caduti da oltre mare a Bari. Purtroppo però il Ministero della Difesa non aveva dato autorizzazioni a portarli e quindi abbiamo dovuto aspettare degli anni e finalmente questa autorizzazione è arrivata.